Per far fronte al problema della mancanza del medico a bordo dell'ambulanza di Venafro, Sindaco e Giunta sono pronti a farsi carico della spesa necessaria a garantire un camice bianco anche di notte. Compensi quelli che spettano ai medici per l'attività notturna che da Palazzo Cimorelli sono disposti a pagare con le proprie indennità. A Venafro infatti non c'è un punto di primo intervento e il pronto soccorso più vicino, quello di Sernia, è già notoriamente in affanno. Il 118 dunque resta talvolta l'unico riferimento per le emergenze. Privarlo del medico per il Sindaco Alfredo Ricci significa ledere il diritto alla salute dei cittadini. Dopo giorni di interlocuzioni sia con Campobasso sia con Roma si è capito che alla fine il problema è soltanto un problema di soldi. E oltretutto stiamo parlando di appena 9 euro l'ora l'ordi per garantire i turni di notte, quindi dalle 20 alle 8 di ogni giorno. Poiché credo che la salute valga molto più dei soldi, poiché credo da Sindaco che quando a un certo punto vengono in gioco dei valori fondamentali, come in questo caso il diritto alla salute, ci si debba assumere delle responsabilità. La politica a questo serve se il problema è di soldi e oltretutto vorrei dire pochi soldi rispetto a quello che è il debito della sanità del Molise, ma se il problema è quello e se i cittadini devono avere dei problemi per questi soldi, ma ce li mettiamo noi senza nessun problema perché crediamo che siamo i rappresentanti di questo territorio che soffre anche troppo e che merita di essere rispettato ad ogni livello. Intanto Ricci ha diffidato l'ASREM e gli organi competenti a rivocare il provvedimento con cui, a partire dalla notte dell'8 aprile, il 118 di Venafro diventerà postazione India a bordo dell'ambulanza, pertanto ci saranno solo un autista, un infermiere e un soccorritore. Ho inviato una diffida all'ASREM, al Presidente della Regione, al Commissario e al Subcommissario ad Acta e per conoscenza ai Ministri della Salute e dell'Economia a riattivare immediatamente la postazione medicalizzata di 118 di Venafro. Nel contempo, poiché se non dovessero risolvere il problema a breve, noi siamo pronti, lo abbiamo detto e lo confermiamo, a proporre ricorso al TAR, ho chiesto immediatamente di avere copia di tutti gli atti che sono stati adottati.